Come sta andando questo Romics? Si delinque o no? No, no, qua tengo tutto sotto controllo, tutti bene stanno a comportare purtroppo Il Bomboletto non l'ha lasciato? Il Bomboletto si è andato a fare qualche furtarello là dietro, tanto un po' pizzico Un po' pizzico? Un po' pizzico Non puoi fare dei pizzioni, mi chiamava nessuno Che dice, sta Roma? La Roma è forte, il capitano è un altro record Capitano è il capitano? Capitano è il capitano Si ricorda il Champions League? No, è il capitano, è il giocatore più anziano che ha fatto il gol alla Champions Ah, 38 anni, è appena freschi freschi Senti, il campionato promette bene Il campionato promette bene, è un bel lavoro di allenatore, è un bel lavoro di squadra La partita dura a Torino, con il pronostico, lo chiamiamo Perdemo, perdemo Perdemo? Si, si, tutti, tutti le perdemo Le perdemo tutte Stanno le perdemo tutte E vabbè, allora ti lascio qui Ma Romics è un bel cosplay, tu, eh? Grazie, semplicissimo Siamo a Romics Semplicissimo, basta, perché tu sei un po' fornizia Lo puoi dirlo? Io si Ti senti un po'... Una cifra Una cifra Non c'è bisogno mai cosa di prepararsi Solo la parrucca, guarda Sì, la parrucca Va bene, ma anche lei è un cosplay? Si, sono vestita da Yuki di Vampir Knight, che è una vampira Ah, bellissimo Va bene, siete divertiti qui a Romics? Non è la prima volta che vedi? No, no, io sarò almeno, senza parte di legislazione, 17 anni da Arbeck e Spocartoon Io dal 2011 Da Arbeck e Spocartoon Quindi proprio una passione per i fumetti, per i personaggi televisivi Va bene, grazie commissario, mi saluti Bomboletto Bomboletto, gioca poco e te vi apprizzi, eh? Grazie